Ciao piccolo amico, che piacere vederti. Mi presento, sono Cuoco Danilo, grande esperto in ricette di tutti i mondi di fiaba e di tutte le città laggiù. Regina Odessa mi ha nominato niente meno che nuovo Cuoco di Corte. Ho fatto un salto nel mio orto qui dietro così adesso ho proprio tutto ciò che mi occorre per cucinare ottimi piatti e allora mi metto subito all'opera. Momento per tutti i timballi imperiali ma se tu sei venuto fino qui forse vuol dire che ti piacerebbe diventare il mio piccolo aiuto Cuoco. Sì perfetto e allora ti insegnerò tantissime ricette superlative, buonissime e io ho sempre desiderato avere un aiuto Cuoco proprio come te e allora ti aspetto qui nella mia cucina presto. Non mancare, ci vediamo qui, ciao ciao!